Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora questo sarà un brevissimo video per annunciarvi appunto che su Instagram ho fatto un piccolo giveaway insomma per rinforzare le mie iscritte. Vi lascio nell'info box il link alla foto insomma su Instagram e ho deciso insomma di fare il video per informarvi magari non mi seguite su Instagram insomma per non farvelo perdere e anche per mostrarvi in dettaglio quali sono le cose che ho deciso. Allora la prima cosa che vi regalo è la matita di Neve Cosmetics della Pastello, questa è nella colorazione Cappuccino Rose, non l'ho aperta, non l'ho sbocciata né niente. Poi vi regalo una mini taglia di uno shampoo Eco Bio per capelli delicati della Bio Crawl, questo ce l'ho anche io nella versione per capelli grassi. Poi questa crema per il corpo della Argital, la saponetta, il sapone naturale con olexa vergine d'oliva Bio, essenziale di lavanda ligure della Natura Equa. Sempre di Natura Equa, la crema super nutriente per pelli secche e disidratate, la crema viso anti-age, poi di Dr. Organic, questa è la crema insomma con la bava di lumaca, e la crema mani e unghie al miele, questa è veramente molto buona, poi Bio Officina Toscana, l'emulsione viso preventiva, poi Sante, questo doccia schioma al melograno, poi come potevo non inserirvi la mia amatissima crema profumata della Elan alla magnole stellata, e sempre di Elan lo shampoo doccia gel profumato, questa volta all'ortensia e al figo. Poi, sempre di Elan, una crema idratante 24 ore, di questa linea Essere, vi do lo shampoo per capelli secchi e opachi, una di questa linea Do Brasil, la crema viso antietà super nutriente anti-rughi da notte, della Nature's, l'emulsione dopo sole idratante viso corpo, questa avete visto, ce l'ho anch'io nel formato grande, è favolosa ragazzi, lo so che non è il periodo, però ho deciso di inserirla ugualmente, e infine di Alchemilla, lo shampoo arancio e limone, per capelli secchi e delicati e trattati, e il balsamo annesso, insomma. Niente ragazzi, come avete visto ci sono tantissimi campioncini che sono praticamente parte di quelli che ho ricevuto al sana, ma siccome erano veramente tanti, ho deciso di darveli, insomma, di farli provare anche a voi. E in più, come avete visto, ho aggiunto la matita di neve e questo shampoo fa, della Biocroll. Io spero che partecipiate, come vi ho detto prima, trovate sotto il link. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!